Belli, Nintendo Switch è la miglior console attualmente sul mercato. Ve lo dico io che non ho né la Play 5, né l'ho avuto la 4, non ho l'Xbox 360, non ho nulla di tutto ciò. Ho comprato la Switch dopo aver preso l'ultima volta la PlayStation 2. Ragazzi, è un capolavoro. Vi spiego perché. Innanzitutto, questa bellissima console portatile può essere comodamente attaccata al proprio televisore. e quindi comportarsi come una vera e propria console, quale ad esempio la PlayStation. Tu l'attacchi e in automatico ti parte il collegamento con l'HDM 1, 2 e 3, a seconda dell'ingresso che hai scelto. E quello che vedresti qui lo vedi su schermo televisione. Puoi giocare alla TV con due joystick, 1 e 1, 2. Quindi comprandola hai già due joystick, ma se sei da solo puoi comodamente utilizzare l'impugnatura che ti permette di avere un joypad, joystick, chiamatelo come volete, perfetto per poter giocare da solo. Ma, ripeto, arriva un amico all'improvviso e vuole giocare, lo slebi, lo sle, slitti, lo sfidi, lo sfidi. Può essere utilizzata come un vero e proprio Game Boy, ok? Perfetto. Quindi potete giocarci così o in alternativa potete anche scegliere di utilizzarla in questa maniera, perché vedete ha questa comoda astina che le permette di restare appoggiata, ok? E adesso sto facendo un casino con l'inquadratura, sicuro sto facendo un casino con l'inquadratura e come detto prima potete decidere se giocarci in questo modo, in due, oppure se collegare i joystick e decidere di giocare da solo. Adesso la accendo così vi faccio vedere, perfetto. Belli, davvero, Nintendo Switch non dilute, tra l'altro si basa un po' sulla grafica sempre cartonesca del Game Boy che a me piace tantissimo, quindi è un po' lontano da quel realismo che però stufa perché comunque sai che non è reale, cioè quindi perché cercare un realismo che sai già che non è vero? Invece resta un Game Boy ma di un livello pazzesco, tra l'altro i giochi nati per Nintendo sono spettacolari, cioè Zelda, The Legend of Zelda, che è uno dei giochi più fighi nella storia, se questo video arriva a 200 visualizzazioni, una piccola reaction, un piccolo info video su quello che è uno dei migliori giochi al quale io abbia mai 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 giocato, The Legend of Zelda, per Nintendo Switch è un capolavoro assoluto. Ciao belli e compratevi una Switch perché merita. Grazie a tutti!